Personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura a direzione distrettuale antimafia nei confronti di nove persone indagate per tentata estorsione, detenzione e porto d'arma comune da sparo e intralcio alla giustizia, tutti commessi con l'aggravante dalle modalità mafiose. L'operazione è scattata dopo un'indagine svolta dal nucleo investigativo e di carabinieri della tenenza di Cercola e dalla squadra mobile di Napoli dal commissariato di Ponticelli nel mese di maggio 2023, in seguito alla denuncia del gestore di un ristorante di Volla per una serie di estorsioni subite tra aprile e maggio. L'inchiesta ha messo in luce un nuovo cartello criminale, composto da esponenti dei clan Aprea, De Martino De Micco e Mazzarella, operante nel quartiere Ponticelli. Le indagini avrebbero inoltre permesso quindi di ricondurre specifiche responsabilità in capo ai presunti vertici dell'organizzazione, riuscendo a disarticolarla.